Sono tanti gli scrittori che si cimentano nella scrittura di libri per bambini. Pochi hanno la stessa maestria che caratterizza la penna di Mariella Cuoccio. L'ultimo lavoro della scrittrice bitontina si chiama Io con te, tu con me ed è stato presentato sabato scorso all'interno della bella galleria Devanna. Un libro che, diversamente dai precedenti della Cuoccio, ha come tema centrale quello dell'inclusione, importante sia nell'ambito scolastico che familiare e lo affronta con quattro storie. Il primo racconto parla di un bimbo cinesino che arriva dalla Cina e si deve integrare a scuola, in un ambiente diverso, in Italia, con una lingua nuova, completamente nuova. Quindi la difficoltà del bambino nel primo impatto. Però poi la storia finisce bene. Il secondo racconto invece parla di sport e disabilità, quindi di un bambino sulla sedia a rotelle, quindi un bambino diversamente abile, che riesce a sfondare nel mondo dello sport e quindi del basket in carrozzella. Poi il terzo racconto parla di sindrome di Down, quindi di una bambina affetta da sindrome di Down che però riesce a sfondare nel mondo del teatro. E infine c'è il quarto racconto dedicato all'autismo, un racconto veramente dolcissimo dove si parla di autismo, di quali sono gli effetti, di come appunto i bambini autistici interagiscono con i cambiamenti, le novità e con il dovere esprimere appunto le proprie emozioni. Cosa potrebbe essere più efficace di un abbraccio quando si parla di inclusione? È il momento in cui si trasmette, in maniera delicata e profonda, tutto l'amore verso chi ha difficoltà a relazionarsi con l'altro. A rendere più efficace il tema, la copertina dell'artista Michele Condò, che da tempo collabora con Mariella Cuoccio. I colori e la dolcezza diventano un mezzo per comunicare con i bambini. Per me è stato bello in tutti i casi, tutti i libri che ho scritto. Questo certamente mi ha portato ad informarmi perché non potevo scrivere su argomenti che magari non mi erano, sui quali non ero ferrata. Quindi mi sono prima informata e poi l'informazione insieme alla mia fantasia hanno partorito il racconto. E sono proprio i bambini ad avvolgere tutti i presenti, ascoltano affascinati i testi e sono parte integrante del turbinio di emozioni.